... La scena C'è di un casino come 5 anni fa Fermi per favore Fermi 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 ragazzi Firmami bene questo che mi ha fatto un tuo collega per piacere Grazie, firmalo bene eh mi raccomando Fermi 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 Mi raccomando Cercate di mantenere per quanto possibile le posizioni Resistenza, resistenza, resistenza Resistenza, resistenza, resistenza Resistenza, resistenza, resistenza Resistenza, 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 Grazie per la visione! Grazie a tutti!